Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.La confessione del padre di Ginevra Lamborghini su Antonino Spinalbese e quello che è successo tra i due nella casa Nella casa del grande fratello, che sia la versione VIP o NIP, nascono amicizie e amori, ad ogni edizione. Soprattutto quest'anno, che l'edizione è stata particolarmente lunga Ma è come in questa edizione abbiamo assistito alla nascita di tante coppie. La dolce Michelin Corbaia e il simpatico Edoardo Tavassi, Antonella Fiordelisi ed Edoardo Donna Maria, la caliante Oriana Marzoli e il fumantino Daniele Dal Moro Poi ci sono state le coppie mai nate, quelle che si sono limitate ad una simpatia iniziale ma non hanno avuto modo, o tempo, per decollare Marco Bellavia e Pamela Prati ci hanno provato, ma non hanno trovato un punto d'accordo Così come Luca Onestini e Nikita Pelizzon, che dopo un primo avvicinamento hanno avuto dei dissapori che li hanno allontanati Una delle coppie che ha fatto sognare è creato un grosso fandom a quella formata da Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese I due coinquilini hanno avuto una simpatia che non è riuscita a spociare in un rapporto vero e proprio a causa della squalifica della ragazza a poche settimane dall'inizio del reality La storia mai iniziata.Ginevra Lamborghini e Antonino Spinalbese hanno avuto una grossa simpatia, alimentata anche dal conduttore Alfonso Signorini che ha cercato in tutti i modi di facilitare le cose tra i ragazzi Addirittura facendo entrare la ragazza come ospite per alcuni giorni nonostante fosse stata squalificata, cosa che in passato non le avrebbe permesso nemmeno di essere in studio Ma si è dovuto attendere l'uscita di Antonino per scoprire che tra i due c'è stato un bacio dentro la casa, di cui nessuno sapeva niente E sembrava proprio che stesse nascendo davvero un amore. L'ex di Belen Rodriguez durante una delle ultime puntate aveva dichiarato, legame affettivo e sentimentale? C'è una possibilità Non ne abbiamo parlato, ma continuiamo a sentirci, … sono convinto che farà parte della mia vita perché ci vogliamo bene. Il pensiero su Antonino Spinalbese.A quanto pare però si è trattato solo di parole I due sono già ai ferri corti. Antonino Spinalbese è stato avvistato con un'altra e Ginevra Lamborghini ha ammesso a casa chi, parlare di amicizia è sempre stato tra virgolette, perché ci si conosceva poco e all'interno di un gioco La vita è un'altra cosa. I fan della coppia hanno commentato le parole della ragazza trovando in esse un fondo di tristezza, come quello che ha condiviso Deyanira Marzano Un utente ha osservato che durante l'intervista negli occhi di Ginevra si nota tutto il suo dispiacere per questa storia mai iniziata, e che dimostra così di tenerci ad Antonino e di essere rimasta male per il fatto che ora nemmeno si sentono E a sorpresa, ecco che sotto si nota il like del papà della Lamborghini, che in questo modo ha fatto capire cosa pensa del hairstylist Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Metti mi piace e commenta la visione di Ginevra Metti mi piace e commenta la visione di Ginevra Metti mi piace e commenta la visione di Ginevra